Atto vandalico senza cervello o azione di stampo razzista che sia, la scritta apparsa sulla facciata della CGL di Pescara più che insozzare un muro sembra deturpare le coscienze, non quella di Patrick Gubadie che alla CGL ci lavora da anni e che dalla notte scorsa è bersaglio della scritta. La mia riflessione di tutti questi anni che sto in Italia, che sto a Pescara, ho mai avuto nessuna di verbo con nessuno, faccio il mio lavoro rispetto alla legge, cerco di tutelare, di difendere i più deboli, tra virgolette, i migrati. Per cui non lo so, comunque anche se mi hanno scritto quella scritta per intimidire di non fare tutto ciò che ho fatto adesso, quella persona può stare tranquilla e continuare a lavorare. Io non ho paura, non ho fatto niente di male, questo mio paese, che ci tengo a starci, a fare tutto ciò che ho fatto fino adesso e continuerò a fare. Sono anche contento, ho avuto tanta solidarietà, da pescaresi fuori città, fuori come si chiama regione, anche a tutta la comunità immigrante e soprattutto la mia organizzazione che mi stanno sostenendo, anche a livello nazionale, tutto preoccupato. E poi la riflessione che mi viene da analizzare non è altro che il clima che stiamo passando adesso, il clima di odio, di intoleranza, di rassismo. Ognuno può interpretare come vuole. Io avendo questo rivolto proprio a me. Io spero che sia un caso isolato, speriamo. Comunque continuo a fare il mio lavoro con la testa alta.